Sono due militari responsabili dell'omicidio di padre Fausto Tentorio, missionario nelle Filippine, il telente colonnello Coven Gonzalez e il maggiore Marques Spiritu, oltre diversi membri di un gruppo paramilitare nella provincia di Nord Cotabato. Padre Tentorio aveva 59 anni quando è stato ucciso il 17 ottobre del 2011, davanti alla sua chiesa ad Aracan, dove aveva appena celebrato messa. Il missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere era stato portato in ospedale, ma i medici non erano riusciti a salvarlo. Era nelle Filippine dal 1978 ed era sfuggito a un altro tentativo di omicidio nel 2003. Tentorio era fortemente impegnato nell'annuncio evangelico, molto amato dalla sua gente, ma era scomodo per gli imprenditori rampanti e potenti, come rivelano ora le indagini del procuratore aggiunto di Stato filippino Peter Ong. Padre Tentorio spesso si impegnava per difendere le popolazioni locali da disbuscamenti selvaggi ed usurpazioni, come si nota in questa vecchia intervista. Già era già un anno, già dal 90, i tribali e anche alcuni non tribali cominciavano a reclamare perché dicevano che la compagnia del legname che veniva da Davao, che è una grossa città, passando attraverso i monti, si stava disboscando e quindi alcune sorgenti dell'acqua erano già prosciugate e in più stavano entrando in un territorio per i tribali sacro. Inizialmente erano stati accusati dell'omicidio di padre Tentorio due civili, Jimmy Hato, secondo i militari riconosciuto da alcuni testimoni come il killer, e suo fratello Robert, identificato come l'uomo alla guida della moto usata per scappare. Ora l'accusa è salita di livello e convolge i due ufficiali e venti soldati. Il vescovo di Chidapavuan, Coseco Lin Bagaforo, ha accolto con favore la notizia, ma ha anche chiarito che gli uomini che ora vengono accusati potrebbero essere solo pedine. vogliamo conoscere anche i mandanti. Il procuratore Ong ha precisato che si aprirà una nuova indagine formale prima di un eventuale rinvio a giudizio. La strada per ottenere giustizia quindi resta ancora lunga.